Piero Di Cristinzi, naturalmente anche quest'anno la FIGICI Molise è tra i promotori del Memorial Scorrano, terza edizione, domenica a Mirabello questa volta. Sì, credo che è un momento importante per ricordare un grande campione, un grande uomo dello sport regionale, del calcio in particolare, per quello che è stato Michele Scorrano. Io credo che è importantissimo, non solo la FIGICI, ma un gruppo di amici, in particolar modo anche la famiglia Sabelli, unitamente a Telemorisse, alla Regione, a Carmelo Parpiglia, è la terza edizione di questo Memorial. Un Memorial proprio improntato su quello che è la figura e che è stata la figura di Michele Scorrano. Comincia la giornata nella mattinata, quest'anno a Mirabello, dopo Agnone e dopo Ururi dello scorso anno, quest'anno a Mirabello. Come vuole proprio l'ingegnere Sabelli che vuole che questo Memorial sia fatto indinerante su tutto il territorio regionale. Io credo che sarà una bella giornata di sport, il principio essenziale è il divertimento, poi tante persone e tanti vecchi amici di Michele Scorrano che saranno presenti sicuramente a questa manifestazione. Come ha detto lei, un Memorial itinerante perché Michele Scorrano era il capitano del Campobasso, ma è ricordato effettivamente da tutto il Molise come un modello di, in questo caso, di giocatore e di uomo di sport. Credo proprio di sì, credo che proprio lui era la bandiera del Campobasso, ma amato da tutta la regione. Credo che non ci sia un ancolo della nostra regione che non ricorda con grande passione e anche con affetto Michele, che proprio col suo carisma, il suo modo di essere il capitano di una squadra che in quegli anni ha fatto delle cose importantissime, oltre al calcio è andato perché tramite la squadra di calcio del Campobasso si è riusciti a far conoscere bene in tutta Italia praticamente quello che è il Molise in particolare e la città di Campobasso. Lui era la bandiera di questo gruppo di giocatori che hanno fatto una cavalcata importantissima, cinque anni di Serie B, più il raggiungimento della stessa Serie B, insomma, delle pagine bellissime che tutti quanti ricordiamo con grande piacere e con grande affetto. Una giornata che ripercorre, diciamo così, le tre generazioni, il futuro che sono i più piccoli, il presente del Campobasso di Serie D ed il passato che sono gli ex compagni di squadra di Michele Scorrano, una formula vincente che comunque ripetete spesso. Sì, un mix proprio che la prima parte riguarda i giovani, le giovani promesse del calcio regionale con diverse formazioni che si affronteranno nella mattinata con la categoria giovanissimi, praticamente sul bellissimo impianto di Mirabello e poi a pomeriggio a seguire una partita importante tra quello che è stato il Campobasso quest'anno, che ha vinto il campionato di eccellenza e si appresta a poco a disputare il campionato nazionale di Serie D e la speranza di tutti che ritorni anche a traguardi ancora più importanti. E poi il clou della giornata che sono tutti i vecchi amici di Michele che saranno presenti quasi totalmente con le vecchie glorie del calcio molisane, diciamo, di parietà. Torniamo all'impianto per l'appunto tanti stadi sintetici che ci sono in Molise. La speranza è che l'anno prossimo si possa ospitare proprio nel campo della FIGICI Molise? Sì, credo che molto probabilmente il prossimo appuntamento sarà sul centro federale del Comitato regionale che oramai i lavori stanno all'inizio però dovrebbero essere ultimati per la primavera prossima e che lo stesso sarà un impianto di grande qualità e che sicuramente con questa manifestazione gli daremo anche un'opportunità in più proprio per tutto il movimento calcistico regionale.